Come guadagnare con gli NFT nel 2023 Ciao ragazzi e benvenuti a tutti all'interno di questo nuovissimo video Oggi siamo qui dove andremo a parlare di un'applicazione che ci permetterà di guadagnare Però per iniziare il video come sempre iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi ulteriori contenuti del genere Mi raccomando ragazzi il video di oggi comunque vado io personalmente a testare questa piattaforma Quindi non è un consiglio da seguire quindi non investire in questa piattaforma se non siete sicuri al 100% Io ho deciso di portare questa breve recensione dove andrò comunque a depositare del denaro E ovviamente vi spiego anche un po' come funziona questo progetto Il nome si chiama ACNFT In caso comunque se siete interessati io non sono un consulente quindi non mi assumo nessuna responsabilità E sapete bene comunque quando ci sono queste piattaforme dopo un tot vanno a finire Quindi smettere di pagare Questa è appena nata e ovviamente ragazzi in questo caso possiamo andare tranquillamente a guadagnare un bel po' di soldi Però ripeto non mi assumo nessuna responsabilità La schermata è questa qui Allora noi vi lascio il link sotto in descrizione in caso basterà che vi registrate E dopo che vi siete registrati avete messo la vostra email Io ne ho messa una a caso onestamente In questo caso dovete andare a verificare il nome Io ho verificato il nome, ho messo un nome, un cognome quindi stop senza problemi Possiamo andare a mettere anche e soprattutto in questo caso per quanto riguarda l'autentificazione Soprattutto di Google Ok quindi in questo caso basta cliccare mettere le solite robe Ok quindi è veramente molto semplice Continuiamo qui possiamo mettere il nostro wide row Ok basta inserire il nostro indirizzo Dobbiamo scegliere usdt trc20 e mettere l'indirizzo qui Quindi il solito copiare e incollare Qui mettere quanto vogliamo prelevare e via dicendo Poi vediamo my collection in questo caso c'è soprattutto la collezione di nft Che possiamo andare comunque che abbiamo già acquistato Sempre indirizzo ok Qui dobbiamo scegliere sempre in questo caso trc20 Basta copiare e incollare qui comunque quando andremo a guadagnare E quindi il gioco in questo caso è fatto Poi scendendo sotto ovviamente possiamo andare a vedere i prelievi, i dettagli, la ricarica, sempre i dettagli Poi possiamo andare a vedere anche e soprattutto l'invito Ok qui il referral link che io ve lo lascio sotto in descrizione Qualora siete interessati e ovviamente lo potete incollare E mettere ovviamente nella chat con i vostri amici E in questo caso ovviamente potete andare tranquillamente a guadagnare Ma ora iniziamo a parlare del progetto in sé Questa è la schermata home ok Quindi qua ci va a dire che è partner di Binance, OcX, Wobbio e Metamask Sembra comunque fatto bene come piattaforma Allora in questo caso vediamo qui c'è update time Vediamo che tra 36 minuti comunque questo scade E quello che praticamente offre questa piattaforma E che soprattutto possiamo andare a vedere quando è uscito questo progetto Ad esempio questo NFT è uscito praticamente parliamo di un mesetto fa Poche settimane fa e costava 22 dollari ok Ora il prezzo è aumentato ed è di 32 dollari quasi Ed è aumentato dell'1.96% Hanno fatto comunque l'offerta queste qua 2200 persone E ne sono rimasti solamente 49 di queste NFT Allora in questo caso quello che vi consiglio soprattutto E qualora volete investire in questa piattaforma Ad esempio qui vedete questo è iniziato praticamente E aumentato il prezzo a 55 dollari E di andare soprattutto a prendere quegli NFT che sono comunque nati da poco E in questo caso possono andare a guadagnare comunque con lungo andare il tempo Ad esempio vi faccio vedere Questo qui è uscito 6 giorni fa Il suo prezzo d'acquisto era di 10 USDT Ovviamente in questo caso il prezzo è aumentato a 11 dollari Solamente del 2% quindi possiamo andare a fare buy Ad acquistare e ovviamente andremo a guadagnare degli interessi Quindi capite bene che comunque dopo che scadono questa pagina Andando avanti praticamente si aggiorna E quindi possiamo comunque continuare ad andare a guadagnare Ad esempio qui c'è scritto NFT preview Qua possiamo andare ad acquistare direttamente Ad esempio questo 10 dollari Però capite bene comunque ancora in questo caso non sono usciti gli interessi Non ci sono gli interessi Ok? Poi cliccando sulla destra ovviamente potete mettere la lingua Ovviamente io ho messo inglese, italiano non c'è per questa piattaforma Il mercato qui ci va comunque a dire sempre la solita roba E in questo caso ovviamente possiamo andare sia a comprare che vendere Per quanto riguarda l'invio dei soldi è veramente molto ma molto semplice Basta andare qui su recharge Cliccare, mettere la crypto, USDT, TRC20 Mettere la quota, facciamo 15 Fare payment, ok E dopo che abbiamo fatto ovviamente dobbiamo andare a scannerizzare questo QR E ovviamente in questo caso dobbiamo mettere anche la prova Che abbiamo pagato e verranno accreditati all'interno del nostro conto Ora io comunque andrò a depositare anche all'interno di questa piattaforma Andrò a vedere come soprattutto funziona Quindi vi terrò aggiornati Se volete sapere ulteriori per quanto riguarda questo progetto Lasciate un bel like, mi raccomando Iscrivetevi al canale Questo è un video dove comunque vado a fare A provare a guadagnare con gli NFT Soprattutto bot automatici E quindi più un esperimento Ovviamente se siete disposti a rischiare qualche capitale Ok poco ragazzi Perché comunque non è una roba sicura al 100% Ma per quanto riguarda le crypto nulla è sicura al 100% Io andrò a depositare solamente quei 10, 15 USDT E finisce qui Ok mi raccomando ragazzi Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo domani con un prossimo video